Volevo ringraziare però il Vicepresidente Barbareschi per avermi invitato. Mi aveva rivolto una domanda meno complessa di questa, ma non meno profonda, quando mi ha udito insieme ai suoi colleghi in Commissione sulla rete di nuova generazione per Internet. Non è una questione semplice, vorrei però semplificarla perché dobbiamo capire che tocchiamo con mano qualcosa che è quotidiano per noi. Io circa 6-7 mesi fa stavo facendo zapping in televisione e a un certo punto sono stato attratto da una canzone che veniva trasmessa, c'era per la verità anche una bella ragazza che presentava questa trasmissione e chiedeva a chi sapesse chi è che cantava quella canzone. Era molto semplice la risposta perché era una lacrima sul viso e la cantava Bobbi Solo. Ma le risposte che arrivavano erano le più strane. Telefonava una signora e diceva Fred Buscaglione, un'altra signora telefonava e diceva Rita Pavone. Poi un ragazzino telefonava e diceva che era Gianni Morandi. A un certo punto ho detto ma scusate ma allora telefono io perché si vincevano 10.000 euro e c'era anche la possibilità di ricaricare un telefonino. E mi sono messo a comporre il numero. Quando proprio in quel momento un signore prima di me dice la canta Bobbi Solo, la ragazza dice brava, bravo, lei ha vinto il premio. E come se niente fosse ha ritelefonato un altro, Gianni Morandi. Ho detto allora c'è qualcosa che non funziona. Sono tornato il giorno dopo in ufficio e ho chiesto ai miei uffici se sapevano di questi quiz televisivi. Mi hanno detto che li stavano monitorando. Per fortuna è un istituto che funziona. Che ce n'erano 6 o 7. Superquizzone, quiz caliente, chi canta zingara. E sostanzialmente l'imbroglio è questo. In realtà non c'è nessun quiz e non c'è nessuno che va in diretta televisiva. Ma è tutto regolamentato in modo che ogni qualvolta si telefona si spendono 15 euro di telefonate. Anche se risponde il centralino che dice che le linee sono intasate. Ma chi telefona non sono i telespettatori. Sono invece delle persone dell'azienda che per norma di regolamento, effettivamente pubblicato su internet, ma bisogna andarla a trovare, l'azienda può chiedere di telefonare per riempire i vuoti che altrimenti ci sarebbero, secondo loro, inesorabilmente. In realtà in qualche famiglia si è arrivati a spendere fino a 400, 450, abbiamo evidenze anche di 800 euro solo per tentare di dare la risposta per guadagnare questi famosi 10.000 euro più la ricarica. È solo una pubblicità ingannevole? O c'è qualcosa di più? Cioè, nella sostanza, il vettore di questo imbroglio, cioè la televisione che trasmette questa finzione, ha un potere di censura sul prodotto o no? Perché se ha un potere di censura e non lo esercita, l'antitrust può intervenire su quella televisione e sanzionarla. Ma se la televisione dice, io sono come un supermercato, io espongo dei prodotti, poi chi vuole se li compra, chi no no, ma non è che se nel prodotto c'è scritto che è dietetico e invece mi fa ingrassare, ne rispondo il supermercato, ne rispondo il produttore del prodotto. Ma la televisione è un mezzo diverso dal supermercato. Al supermercato ci vado io volontariamente. La televisione entra nelle case. Mentre sto facendo zapping, mi compare, mi assale, mi trovo impreparato. Mi trovo in un momento di debolezza, perché sono sicuro di essere protetto a casa mia e invece vengo aggredito da un messaggio che è completamente finto. È una bugia, come recita il titolo di questo convegno. Grazie. 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 Grazie.